Lunedì 30 settembre, buon pomeriggio da Claudio Carbone e Anna Piscopo. Apriamo con il processo per la strage del Gargano, in cui vennero uccisi i fratelli Aurelio e Luigi Luciani. Dopo la testimonianza in corte d'assise, l'agricoltore 42enne di San Giovanni Rotondo, Antonio Pazienza, è apparso provato dall'emozione. Non mi sento assolutamente un eroe, ha dichiarato. I signori Luciani sono i veri eroi. Ci trasferiamo a Bari. Dieci presunti affiliati al clan mafioso Strisciuglio sono stati arrestati dai carabinieri su ordine della Procura. I reati contestati sono tra gli altri di estorsione aggravata dal metodo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Dalle indagini è emersa un'intensa attività estorsiva ai danni di imprenditori dei quartieri Santo Spirito, Palese e San Pio, Enziteto. Un incendio è divampato ieri sera all'Oasis Lago Salso, l'area naturale protetta che si trova nelle vicinanze di Manfredonia, nel Foggiano. A denunciarlo l'associazione Centro Naturalistici, la ONLUS che gestisce il parco, secondo la quale il rogo sarebbe doloso e appiccato per ragioni venatorie. Ci occupiamo ora di politica e del prossimo confronto delle regionali con una dichiarazione del presidente Emiliano. Non sto seguendo bene quello che succede nel tavolo del centro-sinistra, so solo che il centro-destra, tra breve come penso sia inevitabile, candiderà Raffaele Fitto, che è una candidatura seria che ha la sua importanza e il suo profilo. Immediata la replica dell'ex governatore Fitto, Emiliano è un furbacchione, non sapendo come gestire la palla nel suo campo, pensa bene di gettarla nel campo avverso, sperando di creare confusione e divisione. Non ci riuscirà. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, con riferimento alla vicenda che ha interessato l'Osservatorio Fitto Sanitario Regionale e l'ARIF, l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, ha sottolineato che l'Agenzia esegue le ordinanze di estirpazione delle piante infette per conto e dal posto dell'Osservatorio Fitto Sanitario Regionale e quindi non avrebbe mai potuto essere destinataria di sanzioni amministrative. Inaugurato oggi il nuovo infopoint del porto di Bari, ha espresso soddisfazione il presidente dell'autorità portuale Patroni Griffi, che ha dichiarato che il porto di Bari ha raggiunto il record di traffico e l'anno prossimo intende superarsi. E a proposito di turismo, dal prossimo 29 giugno, dall'anno prossimo Bari sarà collegata a Copenhagen. Il volo sarà operato dalla Scandinavian Airlines il lunedì e il venerdì. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia aerea. E parliamo di problemi legati alla terza età. Tutto pronto anche quest'anno per il tour di Nonno Ascoltami, l'ospedale in piazza. La campagna di controlli gratuiti dell'udito, promossa dall'omonima Onlus, che porta in piazza il tema della prevenzione dei disturbi uditivi. In Puglia l'evento si svolgerà Barretta e Gravina domenica 6 ottobre, Bari 13 ottobre, Brindisi Fogge e Lecce il 20 ottobre, dalle ore 10 alle ore 19. E per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.